Salve a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce. Benvenuti a un nuovo episodio della narratrice di sogni. Protagonista di questa puntata sarà Daniele Sbaraglia con E se fosse domani. Vi leggo la trama. Se scoprissimo che la vita è un sogno, che i nostri sogni possono diventare la realtà, e se da un bellissimo sogno non ci svegliassimo più, il romanzo parla della vita di un uomo che si chiede cos'è l'amore. È un tipo un po' impacciato ed insicuro. Viene licenziato e per questo cerca in altri paesi nuove opportunità. Quando crede che sia tutto finito e che per lui non ci sia un domani, ecco che la vita gli presenta una nuova possibilità e forse risponde ai suoi quesiti. Il protagonista si interroga sul significato della vita in una ricerca senza fine. Vive una storia d'amore bellissima con una donna e un figlio non suo e lo fa in un sogno. Forse no. Lo fa realmente? A questo punto vorrei leggervi un brano tratto dalle prime pagine del romanzo. Mi chiamo Manuel. No, non è vero neanche questo. È un'illusione, come tutta la mia vita. Mi sarebbe piaciuto, ma il mio nome è uno dei più comuni che ci siano, che può essere Pietro, Giuseppe per gli amici Pino, o Mario, Giovanni, Antonio. Che importanza ha? Si dice che anche nel nome ci sia un destino. A me sarebbe piaciuto chiamarmi Manuel e così mi chiamerò per raccontare questa storia. Manuel Fantoni era un personaggio di un film di Carlo Verdone interpretato dal grande angelo Infanti. Ecco, a me sarebbe piaciuto essere come Manuel Fantoni. Un uomo affascinante, con tante storie da raccontare e una vita piena di emozioni. Storie incredibili di donne, viaggi in giro per il mondo in cerca di avventura. Un uomo che appare spaparanzato sul divano, stanco di una vita che però gli ha regalato molto. Che annoiato fa girare una pallina su una roulette portatile e racconta parte delle sue esperienze. Quel film l'ho visto e rivisto centinaia di volte. Amo quel personaggio così diverso da me. Io, così poco affascinante e senza storie da raccontare. E non importa se sei bello o brutto. Quello che conta è il fascino. Penso che se avessi avuto fascino la mia vita avrebbe preso una piega diversa. Sarei stato meno solo, mi sarei fatto una famiglia e non sarei andato in cerca di chissà cosa. Il fascino ti aiuta nella vita di tutti i giorni, nel lavoro e con le donne, ovviamente. Le donne sono sempre state un problema per me. Non sono mai riuscito a conquistarle per davvero, a far provare il loro interesse per la mia persona. Forse perché sono timido e insicuro. O forse è colpa del fascino che non ho. Appunto, più di una forte amicizia non sono mai riuscito a ottenere. Quante donne amiche ho avuto. Poi perdevano la testa perché non le considerava appieno. E io che cercavo sempre di essere gentile e simpatico. Mi definisco una persona normale, uno a cui piace passare inosservato. Avrei voluto essere diverso. Non mi sono mai piaciuto e mi chiedo ancora cosa vedano in me gli altri, anche se non mi interessa più di tanto. Io seguo la mia strada piena di buche, non preoccupandomi delle sensazioni e dei giudizi altrui. Mi sarebbe piaciuto avere una vita piena di impegni e di cose da fare, piena di interessi, di passioni. Innamorarmi di quegli amori che ci raccontano nei film, illudendoci che esistano realmente e inducendoci a cercare e cercare, sperando che il prossimo sia meglio di quello al nostro fianco finché ci perdiamo nel vuoto della vita e non ci rimane più niente. Ho una sola passione. Il disegno. L'arte è l'unico mezzo che conosco per comunicare qualcosa che non saprei altrimenti dire. È quella dimensione che mi permette di esprimere un'idea che va al di là del razionale, del concreto, dello scientificamente provato. È qualcosa di magico. Il modo più semplice per rappresentare tutto il tempo che è passato e che non si ferma davanti a niente, lasciandoti nel vuoto. Allora disegno il mare e i gabbiani. Una strada solitaria che porta nel nulla o un deserto con un bastone d'anziano nel mezzo. oppure un molo alla cui estremità, in mezzo al mare, un ragazzo e una ragazza sono abbracciati per l'eternità. Ancora si amano in una cornice da supermercato, appesi nello stanzino di casa mia. In basso a destra leggo la data 1990. Avevo 18 anni e una visione tutta diversa di quello che credevo fosse l'amore. Disegnò cieli grigi e carichi di nuvole, mossi dal vento, o calmi e lisci, celesti e pieni di primavera. Fantastici. I tratti più marcati o più leggeri a seconda del momento. E ancora i rossi, caldi come le labbra di una donna, i blu intensi e profondi come certe sere d'estate, e tutta una serie di emozioni difficili da descrivere. Più sono andato avanti e più il tratto, il colore, la materia hanno preso il posto della figura, passando dal figurativo al surreale, in un ultimo all'astratto, dove la figura non ha più ragione di esistere. Bastano il colore e la materia. Ho ereditato questo talento da mio padre, che era molto bravo a disegnare, e da mio nonno materno, che mi regalò la prima cassetta con i colori a olio. All'inizio non ho fatto niente per alimentarlo. Poi mi sono capitate una serie di circostanze che mi hanno portato ad amare profondamente non solo il disegno, ma anche la pittura. A partire dall'incontro con il mio amico macellaio. La sua macelleria era una galleria d'arte. Non ci esponeva solo la carne, ma tutte le sue opere. Sentirlo parlare era qualcosa che non dimenticherò mai, un misto di simpatia e insegnamento di vita. Era una persona buona e saggia. Quando parlava del colore, di quello che provava quando dipingeva, gli brillavano gli occhi. Bene, spero di essere riuscita a incuriosirvi. Se deciderete di tuffarvi fra le pagine di Daniele Sbaraglia, buona lettura! Vi ringrazio infinitamente per aver ascoltato fino alla fine e ci vediamo presto con un nuovo episodio della narratrice di sogni. Ciao!